Consegnate le medaglie di bronzo al Valor Civile per un gesto eroico che nel 2013 salvò la vita a due giovani fidanzati. La cerimonia si è tenuta alle 12 di martedì 29 giugno nel palazzo della provincia di Via Tasso a Bergamo. Il prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, le ha conferite a Nicola Bertasa e Jacopo Caccia, due giovani della Val Gandino, che il 7 settembre 2013, dopo un terribile incidente stradale, salvarono dall'auto in fiamme i due giovani fidanzati della valle, Giordano Lanfranchi di Gandino e Stefania Pacchiana di Nembro, alla periferia dell'abitato di Cazzano Sant'Andrea. Jacopo Caccia, allora 18enne di Cazzano e Nicola Bertasa, ventenne di Casnigo, si trovavano a transitare sul luogo dove a tarda sera si era appena verificato lo schianto della Mercedes condotta dal giovane meccanico di Gandino. I due, come riportato nella motivazione del conferimento della medaglia di bronzo con ferma determinazione, unitamente un'altra persona intervenivano in soccorso alle due persone intrappolate nell'autovettura che all'esito della collisione contro il muro di cinta di un'abitazione si era ribaltata e cominciava ad andare a fuoco. Incuranti del pericolo di esplosione si avvicinavano al veicolo prima che lo stesso fosse avvolto dalle fiamme e riuscivano a estrarre i malcapitati scongiurando gravi conseguenze. Chiaro esempio di esemplare altruismo e di elette virtù civiche. Nei giorni successivi all'incidente, dopo la prensione per le gravi condizioni dei feriti, poi fortunatamente migliorate, veniva conferito a entrambi i giovani l'assegnazione dallo scudo di San Martino, prestigiosa onoreficenza assegnata annualmente a Firenze.